Perché se ne sta all'impiedi, dottor House? Come fai a sapere chi è? Sento la puzza. Sì, come se tu fossi un campo di rose. Tè alla menta? Lei conosce la storia di al lupo al lupo? Io non l'ho mai bevuta. Per quante volte un bambino urli che un lupo lo sta per mangiare, la mamma arriverà di corsa. Il mondo è brutto. La gente uccide. Muore di fame. Visto? Questa è la prova. Beh, la gente è stronza. Perché mi dice queste cose? Perché il mondo non è così brutto come tu pensi. La tua cornea trapiantata sta bene, l'occhio sta bene. Era il cervello che non funzionava bene. Adesso ti tolgo questa garza. Sarai abbagliata. Lo so. Le cellule del cervello che non erano cellule cerebrali impedivano di elaborare correttamente le informazioni visive. Dopo il trapianto potevi vedere, ma non vedevi. Potevo vedere. Potevo leggere. Ma era tutto monotono. Annebbiato. O grigio. Non lo so. Quello che so è che tu non vedevi quello che vedevano gli altri. E adesso? Sarà tutto... bellissimo. Le cose saranno quello che sono. Come mi vedi? La vedo triste. Ciao. Non è che posso pagarti in anticipo? Grazie.